giuria oh eccola qua la nostra giuria con Alex Barravano cantautore insomma una giuria di grande qualità vocal coach produttore artistico e poi abbiamo Marco Simeoni anche lui della scuola Marco Simeoni eccolo qui Marco poi Luisa Chilleni ciao Luisa Luisa c'è all'ufficio stampa e poi abbiamo Antonio Buldini produttore discografico insomma abbiamo un bel partello questa giuria il presidente di giuria Emiliano Caponi Emiliano Caponi editore produttore discografico la sciglie già bianca caspita Under 14 la semifinale degli Under 14 questa è proprio straordinaria stasera tre ragazzi e da chi arriva allora allora